Presentate le quattro tappe del Giro d'Italia Amatori, della non edizione del Giro d'Italia Amatori. La straordinaria location della Gura del Furlo sarà la partenza e arrivo di tutte le manifestazioni. Esattamente, la logistica è appunto nel parco del Furlo, le tappe sono tutte facenti parte dei comuni e delle aree interne. Sono quattro tappe, tre tappe a circuito e una tappa a cronometro. Sostanzialmente non sono superiori alle trappe a circuito, non superano i 70 km, però ci sono delle differenze altimetriche. Diciamo che la cronometro è l'unica tappa che non parte dal Furlo perché la spostiamo nel comune di Fossombrone, dove abbiamo la partenza, l'arrivo però sarà sempre al Furlo. La classifica sarà appunto a punti e quindi non a tempo, per cui cerchiamo di agevolare anche corridori che magari non sono tra i primi. Per cui questa è una peculiarità che contraddistingue il Giro d'Italia Amatori. Un giro chiaramente non completamente pianeggiante, un classico mangi e bevi del territorio, ma anche qualche bella salita. Sì, diciamo che siamo in una zona dove tratti in pianura ce ne sono pochi, o perlomeno ci sono, però per renderla anche un po' più caratteristica abbiamo voluto sfruttare il territorio, mettendoci dentro all'interno delle tappe anche delle ascese non durissime, però sicuramente dove si fa la differenza, per cui lo scalatore è sicuramente avvantaggiato perché ci sono tratti che fatti a velocità sostenute, come pedalano gli amatori, sicuramente fanno la differenza. Lo ha sottolineato patron Fabio Zappascenere, come del resto Loris Ducci, classifiche non a tempo, dunque è importante divertirsi anche in tracciati che possono essere impegnativi. Sì, assolutamente sì, sappiamo che comunque gli amatori poi vengono premiati in base alle categorie, però sicuramente è una festa, è una festa in cui tutti si devono sentire protagonisti, per cui poi vedremo se fare una partenza unica o due partenze, e questo in base al numero dei partecipanti perché superate le 250 persone, 250 atleti, saranno due partenze, per cui adesso su questo chiaramente è una cosa che andremo a definire successivamente dal momento che avremo le iscrizioni, però sostanzialmente la classifica punti premia un po' tutti.